l'8200 200 corrispondenze di italia regno e repubblica bell'ottone bello grosso io qui andrò un pochettino più veloce perché sennò il video dura troppo questi sono i sovrastampati in centesimi di corona 1804 un pochettino più grande Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Qua c'è pure la lettera dentro. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.